No, io non ho bisogno del menù. Una margherita, grazie. Un attimino che non ho avuto abbastanza tempo. Una norma. No, 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 no. Una quattro formaggi. No, no, no. Una capricciosa. No. Una biancaneve. Quante pizze buone. Guarda questa. Stavolta non prendo la classica bresaola, eh. Guarda. Guarda quest'altra, quel pomodorino giallo. Andano a cacio e pepe. No, no, stavolta cambio, stavolta cambio. Signora, per lei? Una bresaola, grazie. Sì, io sono già pronta, non ho bisogno di troppo tempo. Allora, per me una salsicce friarelli, senza la salsiccia però, con il pomodorino giallo, se possibile, quello rosso disidratato, con delle scaglie di grana e della granella di pistacchio, senza friarelli. Avete pizze fuori menù? Perché fra queste 60 non ce n'è nessuna che mi ispira. Lenzane, zucchine grigliate, dei peperoni, se possibile, e anche un goccino di quell'olio piccante. Mmm, mi ispira questa, parmigiano, ma c'è l'uovo. Secondo te finisco al pronto soccorso? Ma una pizza 20 euro. Dai, ma non si può mancare più a mangiare una pizza. Dai, non è possibile. Burrata, salmone, gamberetti, con qualche spruzzatina di aceto balsamico. Le ho detto impasto cereali? Cenerentola sta dentro a casa e sta a pulire. Mi piacerebbe a narballo, ma non ho lasciato qui a pulire. A un certo punto, a fada. Che vuoi? Vuoi a narballo? Pur io, perché? Non ce posso andare. Guarda, io te mi hanno a narballo. Fammi un accordo. Io te mi hanno a narballo. Ma ricordate, Cenerentola, ricordate, che se tu a mezzanotte non stai a casa, da capo a piedi diventi una fetta d'anguria. Ma come? Non ce stanno i topolini, a zucca? Questa è un'altra storia. Se a mezzanotte non stai a casa, diventi una fetta d'anguria. E vabbè, Cenerentola sta andando via. A fada. Cenerentola! Guarda che diventi una fetta d'anguria se a mezzanotte non stai a casa. Ho capito. Arriva il ballo. Che lì mi sono fatta lì. Entra dentro la sala. Il principe ha un vedi agno colonna. Cominciano a ballare. Cenerentola. E il principe Cenerè. A me mi è venuta fame. Già c'ha fame questo. Arrivano dentro la stanza e il principe si mette a letto. Si mette a letto sdraiato. A un certo punto se gira vicino al tavolino c'è stata tutta frutta. Comincia con figo. Comincia con uvetta, arancio. A un certo punto viene una fetta d'anguria. Se la mette davanti. Se gira Cenerentola. Cenerè! A che ora devi tornare a casa? Hai due, hai tre, hai quattro. Ciao. Ciao. Hai mangiato? Hai mangiato. Che fai mi copi? Che fai mi copi? Ti amo. Si ho mangiato. Dio mio. Com'è possibile che ti è successo? Non c'era? E fammi un sorriso, porca miseria. Ti ho domotizzato l'esistenza. Guarda qua, sorridi. Che abbiamo il Dolby Surround, abbiamo il frullatore domotizzato, abbiamo il microonde autopulente scongelante, abbiamo la piastra domotizzata, abbiamo la macchina da caffè. Abbiamo superato il kilowatt. Guardate. Guardate, 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 che spettacolo. Porca puttana.